non c'è niente hai un minuto? puoi usare ne 10 secondi non devi usare tutto un minuto io rimango dalle mie di e posso anche sbagliare io la penso così insomma che c'è un problema effettivamente perché noi ci impoveriamo sempre di più perché per esempio la pressione fiscale aumenta sempre di più anche perché alcune centi sociali magari queste cose le percentiscono relativamente ma la pressione fiscale c'è e aumenterà sempre di più perché abbiamo questo debito il famoso debito pubblico che ha un aumento esponenziale adesso non so a quanti miliardi di euro siamo arrivati come debito pubblico e aumenterà sempre di più perché questi qui della BCE continuano a stampare stampano non si fermano mai basta finito ok adesso si vota questo è solamente un esperimento anzi un proto esperimento non è neanche un esperimento così come la Svizzera è una quasi democrazia diretta una grande democrazia diretta questo è un proto esperimento votiamo stella conto a destra io conto a sinistra allora 1 2 3 4 5 voto anch'io 6 6 quindi 23 votiamo i votanti quanti sono adesso vediamo quanti sono adesso in questo momento sì allora 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18 19 19 19 39 48 quindi siamo aumentati ok c'è il tempo per un ultimo intervento prima di una breve pausa e poi Pasqui e si può fare ancora un intervento un'altra proposta e il primo non deve fare nessuno adesso il 2 2 io ma riesco a riproporne e non è che aveva già le proposte aveva già le proposte però non so allora se aveva già le proposte non so penso che ho ragione come le proposte Fabrizio deve essere le proposte ho detto l'ultima volta che si fa il contatore mettere un tetto a quanto un ente una società una persona fisica può guadagnare è molto difficile giusto no non dello stipendio quindi quello lo può portare a casa ma non solo la persona padrimonio di tutte queste le imprese io sono il tito perciò secondo me siccome alla base alla base della corruzione che si sta mangiando vivi c'è questa ingordigia sfrenata sarà il fatto che viene premiato chi come Berlusconi si fa da sé e si mangia tutto secondo me è necessario mettere un tetto non è possibile che uno da solo se fosse così bravo si mangia tutto quello che c'è sulla terra perché gli altri rimangono sempre cioè è proprio moralmente inaccettabile una cosa del genere ok io sono questo nel senso che una società si basa diciamo su un accordo tra le persone quindi a base dell'accordo ci vuole un rispetto reciproco lo Stato poi si basa sulle tasse senza le tasse non c'è organizzazione non c'è distribuzione non ci sono servizi per cui avevo fatto una proposta chi fallisce in questo cioè chi si appropria indebitamente nello Stato della cifra di 2 milioni di euro viene dichiarato fuori dalla società morto civile la società gli consente di lavorare ma può esercitare essendo morto civilmente può soltanto pulire le strade e fare il giardiniere delle aree del centro della città quindi curare il bello la pulizia e può mangiare con il becce quindi non può gestire denaro e quindi viene diciamo gli viene tolta ogni possibilità di delinquere perché chi arriva a rubare 2 milioni di euro può rubarne ormai gli viene tolta era il primo giusto ci sono altre due prego sei sempre lì a voi sì va bene diciamo che la proposta del signore non è interessante secondo me ma è interessantissima io voglio fare una proposta differente però è lunga da spiegare però vi invito a cercarla questa cosa il signore si rifà a molte delle idee cioè questo concetto qui è fondamentale riuscire a capire qual è il tetto massimo è molto importante per riuscire a capire il fatto che molte delle tasse che vengono applicate rendono la tassazione basata sui poveri i poveri pagano più di ricchi anche se dovrebbe essere il contrario questo concetto è paradossale ma è così che funziona perché se una persona che ha dei debiti deve diciamo riapplicarli sui prezzi quei prezzi sono uguali per tutti e se io guadagno un milione di euro e devo comprare una pizza la tassazione l'IVA che pago su quella pizza è insignificante rispetto a chi guadagno pochissimo le idee che dice il signore sono fondamentali e si basano su quelle che erano le idee di Steiner di Gesell di Ezra Pound e anche in un certo Bellia ultimamente diciamo mi ci sto appassionando molto la sua idea si chiama tropocazia e si basa sulla totale eliminazione delle tasse ok tu era il secondo il terzo il secondo quindi abbiamo un terzo intervento da un minuto Elio sono contrario a questa proposta perché non favoreva la libera iniziativa individuale sarebbe come dire siccome ci sono dei ladri allora impediamo che i ladri accumulino più di un tosto no mi sembra molto meglio quello che ha proposto il secondo nel primo intervento cioè non è cambiare le pene per i ladri comunque dovrebbe bastare il divieto di Ubar però c'è già rimarrebbe bisogna fare molte che si vengono devono restituire il trituto comunque sarebbe più utile invece garantire ad tutti un reddito di esistenza e questo dovrebbe rendere significati dovrebbe rendere non dovrebbe importare che qualcuno guadagni più se uno ha il reddito garantito non avrebbe avere i nostri tutti a casa minuto del proponente e sei tu giusto vorrei ribadire quanto ho proposto per due ragioni la prima è che siamo in un mondo finito e pertanto le risorse sono finite non è possibile che ci sia la possibilità di accapparare oltre un limite questa è la prima la seconda è che dal punto di vista morale non è accettabile in quanto siamo assieme cioè viviamo in una società perché la base è di stare bene tutti assieme e non che qualcuno approfitti degli altri per stare meglio questo è in buona sostanza quello che voglio dire e non credo che mettere in un tetto significhi scoraggiare la capacità e la voglia di esprimersi anche economicamente perché un tetto non significa che sia il tetto di un cane un tetto giusto votiamo poi faremo una pausa e poi avremo Pasqui allora pensate le mani perché d'accordo si si tutti possono votare 1 2 3 4 5 6 7 7 11 18 ok è finito l'esperimento possiamo analizzare possiamo analizzare qual è la proposta scusate è finito l'esperimento è finito la proposta che è più vuota cioè noi dobbiamo vedere adesso ma allora il popolo è stupido e non può fare la democrazia diretta perché i parlamentari sono intelligenti perché i banchieri scegliono bene i parlamentari o il popolo effettivamente a buon senso invece è un sistema di violenza psicologica per cui il popolo non può votare cioè se il popolo fosse così stupido la proposta più votata sarebbe assolutamente insensata invece la proposta più votata è il proporre il veganismo come informazione l'alternativa vegana proporre non imporre proporre l'alternativa vegana mi sembra una proposta di buon senso quindi tutte le volte l'esperimento si chiude con l'analisi del voto più votato non mi sembra di cattivo senso la proposta vegana quindi anche stavolta i presenti hanno espresso una proposta di buon senso quindi non vedo perché la democrazia diretta non possa andare avanti di buon senso di buon senso